Mi ha richiesto 5.000 euro per fare questi lavori e dopo sei mesi, a lavori terminati, questo secondo piano è crollato su se stesso. Si è malato, te! Si è malato tu, ma il totale! Benvenuti in una nuova puntata di Pagami Stru**o. Siamo sempre a Palermo, nel quartiere Ballarò, sempre con Vincenzo. E Marco, e allora oggi siamo in compagnia del nostro amico, Ettore. Allora, in pratica, io ho un prefabbricato. Volevo ampliare lo spazio e costruire un piano sopra a questo piano già preesistente. Quindi un secondo livello. Esatto. Ho chiamato tramite amicizie questo capomastro. Come si chiama? Giovanni si chiama. Giovanni. Mi ha richiesto 5.000 euro per fare questi lavori e dopo sei mesi, a lavori terminati, questo secondo piano è crollato su se stesso e mi ha fatto danno pure nel piano già esistente. Ma ha fatto danno soltanto alla struttura o anche delle persone? No, persone no. Fortunatamente quel giorno non eravamo a casa e quindi non è successo niente. Ok. Io ho provato a chiamarlo e lui sostiene che non è colpa sua, che lui non c'entra niente, che il problema è mio, me la devo sbrigarei. Ma secondo te questi materiali che le ho utilizzate sono dei materiali... Secondo me ha trovato materiali scadenti e secondo me ha utilizzato pure gente incompetente. Ok. Adesso tu sei qui da noi per... Allora, io voglio un risarcimento dei 5.000 euro che ho dato a lui per questi lavori. E in più voglio 2.000 euro perché comunque mi ha creato danno anche alla struttura già preesistente. Vai per amicizia e poi finisce sempre questo. Allora io penso che ci siano i presupposti per andare a parlare direttamente con lui. Ok, Ettore, tu resta qua. Noi andremo a parlare con lo st***. Va bene. E ovviamente torneremo a te. D'accordo. Nel frattempo volevo ricordarvi di condividere i nostri video e di mettere il like alla nostra pagina. Ma quant'è? Questo è ancora un passo. Aspetta, 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 c'è uno. È lui il muro. È lui? Sì, sì. Allora, è lui. Ciao! Giovanni? Ciao Giovanni? Ciao, siamo Marco e Vincenzo. No, no, no. Aspetta, 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 facci presentare. Allora, io sono Marco e Vincenzo. Noi siamo due agenti di Recupero Crediti. Avremmo bisogno di parlare con te due minuti. Allora, no, no, no. Allora, fai, 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 ok, però basta controllare le camere. Un secondo. Ma Recupero Crediti? Conosci Ettore? Sì. Ok. Lui ci ha chiamato per parlare con te. Carlo, non ho tempo alla carne. Ascoltami, ascoltami. Siccome c'è troppa confusione, è possibile dialogare di quello che è successo tra te e lui? Sì, ma senza sti cosi, eh. Allora, queste servono soltanto per tutelare tutto quello che tu dici. Mi mi impadra una faccia. C'è troppa gente. Ci puoi far salire a casa, tu abiti qui, no? Va bene. Ok. Ci fai salire a casa, se è possibile, dialoghiamo in maniera tranquilla e serena. Ok? Sì. Tranquillamente, ok? Dai, dai. Dai, dai. Eh, no, no, dai. Scusami, scusami. Scusami, scusami. Scusami, scusami. Scusami. Scusami, scusami. Ok. Un secondo sopra. Allora, ci avevi detto che ci facevi salire. Allora, ti spieghiamo. Lui ha intenzione di chiamare l'avvocato. Noi veniamo prima dell'avvocato. Quindi l'avvocato ha delle spese. Cioè, noi risolviamole in maniera bonaria e in autogomatico vediamo un po' la situazione da fare. Dai. Evitiamo di fare... E' la lista di vagino pari ma la pimpazza. Appunto, lo stiamo dicendo in maniera... Dai, andiamo? Dai. Dai, andate. Dai. Dai, fai di strada perché no. E va bene. Allora, qui sicuramente è molto meglio. Allora, vogliamo chiarire sta situazione? Che è successo? Allora, in pratica, succede che qualche mese fa mi arriva sta telefonata di sto vicciotto che doveva fare dei lavori. Esatto. Ti ha chiesto di costruire una seconda elevazione sul suo fabbricato, giusto? E tu gli ha detto sì, che si può fare, benissimo. Ti ha pagato 5.000 euro. Esatto. Tutto a posto, ma dopo sei mesi è crollato. Allora, aspettate un attimo. Io sono andato a fare sopra il luogo qualche giorno prima. Ok, prima che non c'era. Ma sei se sei andato da solo? Cioè, non so, tu sei un geometro, un architetto? Allora, no, io ho questa di zona quattro perai, così che mi porto dietro da anni. Occhio scarso, io c'avevo i 15 giorni di muratura di Incapa Spaggi. Vabbè, quindi comunque, niente come esperienza. Come esperienza, ok, vabbè. E fatto sta, ci vado sei giorni prima, ci vado col geometro perché quando ci ero andato la prima volta, avevo visto che la situazione non era, diciamo... Ah, quindi ti ho detto, aspetto modo, chiamano il geometro per capire se si possono fare determinate cose. E il geometro che cosa ti ha detto? Il geometro mi ha visto, no, guarda qua ci sono problemi strutturali. Allora lui mi fa, no, ma guarda il geometro si sbaglia, è scarso. Il geometro mi ha perso una valida. Però lui ci dice, in sostanza, che i documenti ci sono. E che la colpa è tua e dei materiali che hai utilizzato, perché comunque c'è un crollo strutturale. E lui che a noi ci ha detto che comunque la sanatoria l'ha fatta, è che forse tu hai usato dei materiali un po' scarenti o comunque gli operai non erano in grado, non sono stati all'altezza. Sono minchiati, cioè tutti i fattori, sono materiali di qualità. Quindi tu ci stai dicendo che comunque a tutto è solo fatto in regola tranquillamente, solo che c'era questa cosa che il geometro tuo diceva che forse non si potevano fare questi lavori. Il geometro, i muratori, tutti mi hanno detto no. Però a questo punto è meglio non farli, perché adesso... Allora, se lui mi dice che ci sono i documenti, tutti i coi, l'operaio a casa è un leasso, un leasso a casa, che significa che ho un purtroppo a niente. Ma tu ne hai visti questi documenti? No. Cioè tu, nonostante tu ne hai visti questi documenti, fai i lavori. Non ti lucia. E tu, le pare un bravo cristiano, dico, uno giustamente, che fa? Allora, aspetta un secondo, io ho una sorpresa per te, sto arrivando, due minuti arrivo, ok? Allora, quello che ti volevamo dire noi, è che cosa ti rendi conto è crollato quello che tu hai costruito se c'erano dei bambini sotto li ammazzati? Ma su c***o, almeno mi dispiace per i vicinieri, ma su c***o, se tu mi dici... No, Niko, fortunatamente non è successo niente, però tu non puoi dire vabbè, tanto devo lavorare, faccio... o non si può fare un lavoro, ma lo faccio ugualmente. No, non funziona così. Tu un lavoro lo fai se solo se si può fare. Ma infatti tu... Giustamente lui adesso dice che comunque la colpa è tua, perché il materiale non è utilizzato in maniera... Buongiorno. Oh, no, 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 a me stai chiacciando. No, 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 mia. Allora, questa è la. Oh, ora. Bella comunque questa casa. Tu facessi che 5 mila euro e se sopporto. Sabe il bisogno di carità. No, 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 no. Mo ricevi e ti facevamo una collega. Ma che faccio? Stai chiacciando. Stai chiacciando. Ma quello cosa? Tu a me a tagliare. A me a tagliare, giusto? Senti cà, ma di 6.5 mila euro. Chi te darai? A dirò che si tutte cose. Tutti una funcia. Una funcia cos'hai tu? Cos'hai una funcia tu? Cos'hai una funcia tu? Cos'hai una funcia? La mia è una funcia. 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 Parlate civilmente. Tranquillamente. Allora, tu hai fatto i lavori e tu mi devi risarci. E sei stato fortunato che non c'è morto nessuno. Scusami Giovanni, scusami. Tu hai fatto un lavoro. Questo lavoro comunque poi alla fine non è andato a buon fine. Quindi è giusto che comunque gli direi delle spiegazioni. Cioè, il minimo. Voi due, ascoltate, parlate in maniera tranquilla e serena. Cioè, quello che voi avete detto a noi a questo punto è tutto diverso. Allora, lui secondo me ha usato materiali scarsi e gente... Ci sono però delle ricevute, giusto? Ci sono delle ricevute che parlano chiaro sul materiale che lui ha utilizzato. Ma se è tutto abusivo, quelle ricevute. Così non ci si trova, non mi resti documento, non mi resti bene. Si è abusivo. Mi parli di geometria e qua se non mi facessi ricevuta, non c'è niente. E' inutile che fuma l'antino. Dai, dai! Che stanno! Che stanno! Che stanno! Che stanno! Che stanno! Che stanno! Ma che ti senti? Vieni a casa mia, vieni al bannino! Ma non capisci che tu finissi niente. E' tu nemmeno. A questo canterà a ghicchio. E' tu nemmeno. E' tu nemmeno. Allora, partiamo da questo presupposto. Ci dovrebbe essere una sanatoria. Che gliela dovevi consegnare. Ce l'hai? Ma ma quelle sanatoria? Siamo in palia, in mosse. Oh, forza voglio! A sanatoria si fa a do. Ma non è così, non assoluta, non è così. Tu utilizzi questo tuo metodo, ma non hai il metodo legale. Non puoi dire che comunque in questa città non si utilizza il metodo legale, perché questo è un problema tuo. Ok, ma lui ha costruito lo stesso senza sanatoria. Ok, ma infatti l'errore è anche suo. Cioè la gente come lui che costruisce in maniera abusiva, su persone che dice si costruisce in maniera abusiva, porta l'abusivismo. Se tu non abusivano, io mi disse che il documento c'era e hai portato tutti i cosi. E io ci lo vedi. Ma quei documenti se tu non abusivano vuoi fare un sbirro... Ma se ti ti è malato... Ti è malato tu... Ma i totani... Oh... 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 Spostalo! Ehi, fermati! Fermati! A posto? Allora non puoi essere più, Vincenzo. Tieni di tono là. A posto? È una cosa inutile. Ascoltami, così non vai da nessuna parte, né tu né lui, chiaro? Tu prima di fare un lavoro devi avere tutti i documenti in regola Ma la cosa vale per tutte e due Assolutamente sì, perché adesso tu hai un piano crollato e 7000 riddano Com'è, dice la domanda vuoi gestire una volta Un geometra parla chiaro, non si poteva fare un lavoro, lui insisteva, insisteva Non lo dovevi fare, non lo dovevi fare E' fermare i cristiani E' tu a fare morire la mia famiglia, la tua campanella, fammi capire Ma se tu mi dici che è tutto in regola, c'è il documento Tu hai la responsabilità, sia civile che penale Tu hai un'azienda, l'azienda si deve appurare Più che altro se si può costruire o non si può costruire Hai un geometra, il geometra che cosa ha detto, non si può costruire Ti devi fermare Quindi se lui vuole costruire in maniera abusiva Costruisce da solo, ma tu con la tua azienda non puoi costruire Quindi tu sei convinto che i materiali sono idoni Materiali cristiani, tutto va in regola Se come dici tu vuol dire che non si poteva costruire Quindi la sanatoria andava fatta e non si poteva avere Quindi qua adesso la situazione diciamo che si è ribaltata Secondo te, un geometra, una persona che ha studiato, una persona esperta Ti dice che comunque non puoi costruire, non puoi fare un secondo livello Evidentemente c'è un motivo Non capivo Stiamo parlando di un prefabricato Io ti paravo a pregare Cioè tu capisci che il prefabricato in questo caso non può avere la stessa tenuta di una struttura In cemento armato Ma poi devi avere il documento nelle mani per costruire Quindi sia tu che lui siete intorto Quindi lì la cosa che io vi suggerisco di fare è la seguente Chiamate un perito vostro, vi mettete d'accordo Capite da cosa è scaturito il crollo Dopodiché vi organizzate Quindi tu hai la tua colpa che hai costruito in maniera così Non si poteva costruire, punto, stop Non dovevi costruire Hai insistito? Bene Tu hai sbagliato a costruire Non mi interessa il fatto che tu hai gli operai che non lavorano e quant'altro Tu non puoi mettere in pericolo la vita della gente Chiaro? Non si può fare Quindi vi organizzate tra di voi Chiamate un perito E nello stesso tempo capite il danno e ve lo accollate assieme Fate analizzare questo crollo e tutto quanto Così da lì capiamo chi ha avuto la colpa o meno In automatico vi accollate le conseguenze A te ti chiudono il cantiere A lui vi mettono i sigini nell'appartamento Quindi decidete Trovate una soluzione Io direi vi dividete le spese Vi organizzate Tu ti metti in regola con il tuo cantiere Perché è la prima cosa da fare Ti fa un'assicurazione all'interno del cantiere Che è la base E tu la prossima volta devi stare più attento Anche perché ci vivi all'interno con i tuoi familiari Per fortuna non c'era nessuno a casa Andiamo Io direi che abbiamo trasmesso Anche oggi siamo riusciti a venire a capo di questa matassa E entrambi hanno torto marcio Quindi che dire Marco Ragazzi quando facciamo i lavori in muratura Mi raccomando di essere sempre in regola Perché dietro a una sanatoria ci sono gente competente Gente che ha studiato una vita Professionisti quindi architetti Ingegneri, geometri Quindi fate le cose in regola La sicurezza prima di tutto E che dire condividete i nostri video E mettete il like alla nostra pagina Grazie a tutti